Ecco azione della Virtus Castel Frentano, sempre Luca Malbone, rete, rete, grandissimo gol, bel gol, bel gol di Gianluca Malbone che porta il risultato a 2 a 0. Virtus Castel Frentano 2, Accademia Calcio Frentana 0, ecco. Oh, subito sti cambi di gioco, però più veloci. 2 a 0 a favore della Virtus Castel Frentano, doppietta di Gianluca Malbone, il nostro Goliador.